E' stato fissato per il 21 ottobre il referendum consultivo sul passaggio del verbano Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia. Il via libera è arrivato nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri. Una proposta che aveva preso forma un anno fa su iniziativa dell'ex senatore Walter Zanetta e del consigliere provinciale Luigi Spadone, con una raccolta di firme tra i cittadini. La grande vicinanza alla Lombardia, la storia, il turismo che è un turismo prevalentemente lombardo, le vie di comunicazioni, le vie d'acqua storica e quindi la storia ci porta in quel senso. E' la prima volta che un referendum di questo tipo interessa un'intera provincia. Questo evidentemente nasce da una certa disamore verso il Piemonte perché in questi anni anche personalmente io ho lottato per cercare di dare alla nostra provincia, alla provincia nostra e a quella di Novara una dignità superiore a quella che non hanno in questo momento rispetto a Torino. Purtroppo non ci siamo riusciti, qui abbiamo la vicenda dei canoni idrici che è una cosa assurda, assolutamente assurda. La Lombardia e il Veneto li hanno riconosciuti, la nostra provincia è in grande difficoltà. Se la consultazione darà esito positivo e il Parlamento ne validerà risultato, il Verbano potrebbe diventare lombardo prima delle elezioni regionali del prossimo anno. Un referendum ancorché consultivo è sempre un'espressione importante della sovranità popolare. Poi naturalmente aggiungo che avendo ereditato la nostra amministrazione, una regione in condizioni finanziarie disastrose e alle quali si è raggiunto anche per l'azione di alcuni dei quali hanno promosso questo referendum, per essere chiaro, non ho nulla da rimproverarmi rispetto a quello che abbiamo fatto nei confronti di questa provincia, perché è il progetto del nuovo ospedale, di cui si parlava credo da qualche decennio, interventi anche in surroga dello Stato e di altri enti locali sulla viabilità, anche a fronte di danni molto gravi che hanno anche causato delle vittime. Certamente non abbiamo potuto, come qualcuno dice, fare le stesse cose che fa la Lombardia, ma perché ci hanno lasciato un ente in condizioni finanziarie disastrose?